La commemorazione dei martiri del 20 giugno ha assunto oggi un sapore e un significato nuovi, diversi, aggiuntivi, un sapore e un significato che d'ora in poi rimarranno nelle prossime giornate di commemorazione in questo luogo e in questa città. La concessione della civica benemerenza proposta e deliberata unanimemente dal Consiglio Comunale amplifica infatti il valore di quello che questo luogo rappresenta, senza voler interferire con il dolore dei familiari delle sette vittime barbaramente trucidate e con il massimo rispetto nei confronti delle associazioni che fedelmente sono qui ogni 20 giorni a ricordare quello che questo luogo significa. Credo che da oggi con questo gesto ogni cittadino di Iesi avrà lo stimolo e al tempo stesso la necessità di confrontarsi con quanto sia importante ricordare ciò che è avvenuto in questo luogo e trarne un insegnamento affinché le proprie scelte, le proprie decisioni, le proprie azioni tengano sempre sullo sfondo gli orrori a cui un conflitto può portare, l'odio che ha portato giovani ad uccidere altri giovani. Noi sulla nostra pelle non abbiamo vissuto esperienze di questo genere ma sappiamo che altrove nel mondo questo sta ancora accadendo e credo che sia nostro dovere riuscire a ispirare ogni nostra singola situazione quotidiana a questa ricerca continua di un percorso di pace. Ciao ciao questo è il fiore del partigiano morto per la libertà e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà e questo è stato un ame marco verso di pace. Grazie a tutti